Musica Musica Lo so, ringraziamo con un forte applauso Franco Ricciardi E vi aspetta tutti in 10 Grazie, sono contento insomma Quando si parla di beneficenza, di stare La musica serve anche a questo E io sono contento di poterlo fare Andiamo con la speranza insomma Con la fede insomma E insomma la grande buona fede Che tutto possa andare bene per queste persone Musica E ti spioro dolcemente Tu sei a casa a chi un portale Pura l'uno fa geloso Sa nascondere l'estremo A chi un bello vuoi Così tu E' sempre bello fare questo tipo di feste Per questi bambini Quando, tutte le volte che vengo diciamo Convocato per fare questo tipo di D'esibizione a titolo gratuito Per raccogliere dei fondi Per fare beneficenza Io ci sono sempre Mi fa tanto piacere Realizzare il sogno di un bambino Magari che non ha l'opportunità Di potersi operare Quindi questa è Penso che sia una cosa che dobbiamo fare tutti Per le giuste cause Noi siamo sempre presenti Perché donare E fare bene all'anima Quindi stasera E' stata una serata mazzesca Molto emozionante Io mi sono divertito tantissimo sul palco Poi contribuire con la mia musica Con una piccolezza E vedere tanti sorrisi in sala Questa è una cosa che veramente Mi riempia il cuore e l'anima di gioia Non mi riempia il cuore e l'anima di gioia E non mi riempia il cuore e l'anima di gioia Perché tu sei un miracolo mio Fammi vivere attaccato a te E ho paura che non mi vedi più Ma non mi riempia il cuore e l'anima di gioia E mi riempia il cuore e l'anima di gioia E mi sento contento e felice di averlo fatto Nel nostro piccolo Quando possiamo Ci lasciamo entusiasmare dall'anima Ed è giusto che queste cose vengono fatte E che noi partecipiamo Contentissimo di aver preso parte A questo evento meraviglioso Grazie, grazie Anzi queste cose ti gratificano Ti fanno stare bene E mi auguro che possano persistere Diciamo nel tema e nella felicità Non come stasera voglio dire È stata bella Ma io voglio parlare in maniera La serata di beneficenza Grazie con noi di questi argomenti Un bacio Che tutti i bambini del mondo Devono stare sempre bene Bene Un bacio conto Tu 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 Quindi dove sei? Che cosa ti occupi? Sono Benvenuti Sono commerciante Bravo Non fai No Non fai Non fai Non usciamo su un internet Ragazzi Vi faccio vedere dopo Domenica Andiamo da Maraviglie Raiuno Vembevoci Chissà Massimo Muggione Lo sa molto bene Siamo in diretta Salute Salute ci stanno un sacco di ospiti, c'è il video di Solaes, poi c'è Michel Bozzet, poi c'è Platinetto, Renato Zero, io e le altri cosi sono dei bristi che sto provando, a di quelle che facciamo sempre di spettacoli tutti i giorni, manciamo di questo pane, ma questo è una, sono le cose più belle ecco, ti pagano nel modo bello, col sorriso dei bambini, con la cella dei bambini non c'è, ti pago più, io ci sto sempre a quelle cose la serata è da me molto sentita, sono uno che queste esperienze, questi soldi, questi regali, ha vissuto sulla propria pelle, sulla propria famiglia cosa migliore di questa che poteva essere questa serata così bellissima, con il raggiungimento dell'obiettivo finale di 6.000 euro e la cosa più bella è che noi ci abbiamo modificato un giorno di fa con una bambina di 5 anni, Make a Wish Italia già esaurito il suo sogno e ne farà ancora altri perché sono un bel poco di soldi io voglio ringraziare tutti, tutti quelli che sono stati vicino, gli artisti che con Massimo Vincione che è il mio carissimo, carissimo compare di Fesima ed è stata una cosa spettacolare ringrazio tutti l'amministrazione comunale che abbiamo fatto tant'anno con i permussi, la scuola perché comunque senza anche il posto dove poterlo fare era tutto impossibile la mia famiglia, la mia moglie che mi ha supportato perché sono torto, vado in ansia quando faccio questo tipo di cose specialmente quelle più sentite e un ringraziamento forte sempre alla nostra spalla a Edizione Caserta grazie a tutti facciamo anche una bella foto, eccolo qui volevo invitarvi, voi che siete dito, venite a Matti, così venite anche voi nella foto grazie, grazie, venite, venite, entriamo tutti quanti fotografo ci entriamo tutti? sì? allora faremo come la festa di compleanno uno, due, tre, cheese guardate per favore tutti là dove è il fotografo niente rischiamo di vedere con gli occhi a destra, a sinistra quindi guardate lì uno, due, tre, fate cheese ok, applauso forte e concludiamo così la nostra serata ringraziamo tutti quanti voi per essere stati qui anche quelli che sono andati via prima grazie a tutti gli artisti, grazie ai volontari, grazie alla Giunta Comunale e tutti quelli che hanno dato il loro contributo buonanotte, alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti